Salve a tutti, io sono Magda Soli e le frequento l'Istituto Piero Gobetti di Scandiano. Quest'anno insieme alla mia classe ho avuto il piacere di partecipare al premio Asimov e io personalmente tra i libri in gara ho scelto di leggere e conseguentemente recensire l'Algoritmo e l'Oracolo. L'Algoritmo e l'Oracolo è un libro di Alessandro Vespignani che è stato pubblicato nel 2019 dalla catedritrice Isaggiatore. E' un libro di divulgazione scientifica che mi ha aperto un mondo. Infatti Vespignani è riuscito con chiarezza, semplicità e naturalezza a descrivere il nostro approccio con il mondo della datificazione e della predizione. E' un libro, sì, di divulgazione scientifica ma ci porta tuttavia a riflettere perché noi siamo completamente immersi in questo mondo virtuale ma non ci chiediamo mai se siamo veramente felici. Inoltre questa scienza potrebbe diventare uno strumento di prevaricazione e di controllo per la nostra generazione futura e dovremmo fare in modo che questo non succeda. E' un libro bellissimo, scritto in modo chiaro e semplice che mi ha portato a vedere internet, il web con occhi diversi e stare più attenta su ciò che faccio e sul modo in cui mi rapporto con questo mondo. E' un libro adatto a un ampio pubblico che voglia conoscere questo spicchio di realtà.